Il pastore, come il portiere in una squadra di calcio, deve sapersi muovere prendendo la vita come viene, pur in mezzo alle contraddizioni deve saper portare pace e speranza e deve saper aspettare pazienti, frutti del suo lavoro. Sono i contorni della missione del Vescovo messi a fuoco da Papa Francesco incontrando i membri della conferenza episcopale del Madagascar. Il Pontefice rivolge a tutti parole di incoraggiamento, ricordando che per essere pastori secondo il cuore di Dio bisogna avere l'audacia di esprimersi sulle questioni sociali, avendo sempre come primo pensiero i poveri. Non meno importante è la vicinanza ai sacerdoti, il saper valorizzare il ruolo dei laici senza clericalizzarli e il saper discernere le vocazioni. C'è la mancanza di vocazione e spinge il Vescovo a prendere di qua, di là, di là, senza vedere la vita come era. E prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della vita religiosa, che sono stati cacciati per immorali o per altre deficienze. Per favore state attenti, non fare entrare il lupo nel Grece. Grazie a tutti.